In vista del dibattito sul bilancio di previsione che il Comune di San Giovanni andrà a discutere domani in Consiglio Comunale, per un'altra San Giovanni Forza Italia presenta nuovamente la propria idea sulla differenziazione dell'aliquota IRPEF comunale, una battaglia politica già provata negli scorsi anni. Vogliamo riportare l'attenzione del dibattito politico cittadino e solo noi effettivamente come opposizione, ma anche come Consiglio Comunale abbiamo fatto in questi anni, una redistribuzione più migliore della fiscalità comunale. In particolare sull'addizionale IRPEF. La nostra proposta prevede questo. L'amministrazione porterà in approvazione nel bilancio di previsione giovedì prossimo la stessa aliquota come mai porta da dieci anni, cioè aliquota massima dell'8 per mille senza esenzioni e senza particolari agevolazioni. Noi chiediamo che nel bilancio dell'anno prossimo, e quindi con una previsione che quindi sarà relativa all'esercizio 2018, di restituire in maniera parziale una parte dell'addizionale IRPEF che sarà pagata in quest'anno dalle famiglie più deboli del ceto medio, in particolare che hanno un reddito ISEE dal 0 fino a 25 mila euro, in due scaglioni, uno fino a 15 mila e uno da 15 mila a 25 mila euro. Ecco poi motivata la richiesta nello specifico della differenziazione. Crediamo che sia un'operazione di ridistribuzione del contributo che ogni famiglia dà all'erario comunale, ma soprattutto ci permette di dare una mano a quelle famiglie soprattutto più deboli e con figli, perché la nostra proposta prevede uno spacchettamento che è agevole ancora di più chi ha figli a carico, rispetto ad una situazione che ad oggi, di fatto, per tutti, indipendentemente che uno sia ricco o povero, paga la stessa aliquota ormai dal 2007 e anche per il 2017.